I Billy Goch tornano ad essere protagonisti nella festa che Casale dedica a questa specialità. Le castagne affumicate infatti sono un prodotto di nicchia di questa località di Albino e la festa dedicata a questo prodotto attira sempre molta gente sulle montagne poste al confine tra la Valle Seriana e la Valle Cavallina. Billy Goch sono castagne essicate, affumicate e poi bollite per essere vendute il giorno della Sagra che è oggi, è una lunga tradizione proprio qui di Casale che stiamo portando avanti da 24 anni e speriamo di andare avanti. Il 2012 ha regalato una castagna di ottima qualità nonostante il persistere del cinipide che negli ultimi anni ha messo in ginocchio la produzione dei castagnetti della Bergamasca. Abbiamo prodotto 12 quintali di castagne, ma diciamo che con la malattia quest'anno siamo andati anche abbastanza bene nonostante questo cinipide, nonostante anche il cancro del castagno che da quest'anno si è fatto molto notare, però non possiamo lamentarci, le castagne sono belle, sono grosse, sono buone. E la festa di quest'anno ha visto anche l'inaugurazione del nuovo affumicatore. Oggi abbiamo inaugurato il nostro nuovo essicatoio che ci permetterà di fare la nostra produzione, tenerla controllata anche col fumo, col nostro camino, in modo da rendere il prodotto sempre più perfetto.